Sette predoni individuati, due arrestati e cinque denunciati e il bilancio di un'operazione condotta dai carabinieri di Riccione, guidati dal capitano Antonio De Lise, e di un intervento operato presso il Palacongressi della Perla Verde, oggetto di un tentato furto. Lunedì 30 marzo i carabinieri hanno dato scacco matto a una banda di predoni albanesi responsabili di alcuni furti in villa nel Riminese. Due gli arresti e due le denunce, ritrovato bottino per oltre 40.000 euro, formato da gioielli, orologi, capi di abbigliamento, occhiali da sole, tablet, telefoni cellulari, vino pregiato e biciclette. Abbiamo proceduto ad estendere su Della Cadella Trotà Giudiziaria una perquisizione in una prima abitazione, nel cui interno vi erano due cittadini albanesi, con questa refurtiva del valore di 40.000 euro. Subito dopo, nell'abitazione attigua, ne erano altri due, di cui uno clandestino, infatti è stato denunciato per clandestinità e poi espulso, ed un altro che aveva anche lui in possesso, erano anche loro in possesso di altra refurtiva, circa 10 cellulari, quindi sono stati denunciati a piede libero per questo tipo di reato. Per adesso la zona individuata è quella di Rimini Sud, località Miramare, e pensiamo che comunque ci possono essere anche dei furti in altre zone, insomma, di Rimini e di Riccione. L'attività era nata a metà febbraio e ha avuto il suo epilogo la serata del 30 marzo. Nella notte tra martedì e mercoledì i carabinieri hanno identificato e fermato tre ventenni albanesi, pregiudicati e residenti a Forlì, scappati a mani vuote dal palacongresso di Riccione. Per introdursi all'interno del Palace si erano calati dal tetto. Sì, questa notte a Riccione abbiamo avuto questa, insomma, questa novità di individuare tre albanesi che dopo essersi introdotti dal soffitto del Palace, senza asportare nulla, perché probabilmente non abbiamo trovato nulla da rubare, sono usciti dalla porta secondaria all'armata e quindi siamo riusciti a intervenire nel tempo strettamente necessario per poterli fermare e denunciarli per tentato furto.